L'occasione di questo incontro serve sicuramente a mettere in luce la riforma del terzo settore, questa riforma che sicuramente sta facendo cambiare passo alle nostre associazioni, ma che soprattutto riconosce il ruolo fondamentale, importante, che gli enti del terzo settore, e fra queste sicuramente l'UMPLI e con essa tutte le prologo d'Italia, stanno sicuramente aspettando e stanno vivendo come passaggio epocale anche per quanto riguarda gli adempimenti e soprattutto le opportunità di aver riconosciuto un ruolo che è quello di essere a pieno titolo enti del terzo settore. Sicuramente quello di oggi è anche l'occasione per informare le prologo di tutte quelle opportunità che il riconoscimento come associazione di produzione sociale dà loro, cioè la possibilità di poter avere a disposizione degli strumenti legislativi, fiscali, tributari, che permettono sicuramente di poter affrontare anche questo momento particolare di crisi e soprattutto di bisogno di ripresa delle loro attività e che ci auguriamo proprio questo momento di vicinanza anche come giunta all'epologo calabrese possa essere appunto occasione di rinascita e di ripresa. Grazie 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 Grazie